Con Esmailo Blue puoi risparmiare immediatamente e non acquistare più l'acqua in bottiglia. Due bottiglie d'acqua al giorno, solo per bere, costano 24 euro al mese. Noi ti proponiamo una soluzione irripetibile per bere e cucinare, lavare le verdure a partire da soli 21 euro al mese. Ti proponiamo una qualità eccezionale con una sorgente d'acqua vive pura direttamente dal rubinetto da casa tua. Ma i vantaggi non finiscono qui. Basta con l'acquisto e il trasporto di pesanti ed ingombranti pacchi d'acqua. Basta trasportare ai piani o nelle abitazioni pesi così fastidiosi. Salvaguardiamo il futuro dei nostri figli, lasciando in eredità un mondo migliore. No all'accumulo di plastica non riciclabile, sia albergo. Acqua naturale, fredda, gassata o leggermente gassata. Possibilità di programmare comodamente dal display la dose da servire. Acquistare oro blu è sinonimo di risparmio, salute e grande comodità. E alle prime 50 telefonate, unitamente alle nostre irripetibili offerte a lancio di 21 euro al mese, una meravigliosa e comoda macchina di caffè e 50 shal d'omaggio a vostra scelta. Disponiamo di uno showroom e un centro assistenza che vi seguirà al vostro domicilio, 7 giorni su 7, in tutte le miglia romagna e le marche. Chiamaci, il tuo assistente personale ti sta aspettando. Grazie. 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 Grazie.